perfetto che ce n'è uno però sempre meno di niente porca puttana c'hai una mira guarda no no guarda c'è una mia di me l'ho specato i 5 colpi dove prendevo in uno ma su dei zii no no così tanta esperienza a sparare, su arma si minchia quanta roba che avevo aspetta che mangio un pochino dai anche a me una roba tieni se troviamo i winchester o i colpi una 40 perfetto ok quando vuoi ah no è completamente danneggiato è ruined com'è? il tonno? si 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 ecco questo qua invece è normale tieni quando vuoi cosa? no no quando vuoi partire si no no vabbè adesso mangiamo un po' lutiamo sta casa due secondi e poi ci andiamo non riesco perchè son sick puttana non so come ma aveva dei colpi della magnum? no non ci aveva i colpi vabbè dai stia qui che lutiamo sta casa ma l'altro tuo amico gianluca dov'è? gianluca? chi è? no gianluca è quel tuo amico lì che era con noi in ts la reclusa? no o che ho trovato uno zaino rosso grande mio sposto la roba aspetta aspetta come si chiama era axis alex tunner no ah si come si chiamava? eeeh non capisco di che parli vabbè eeeh no no di fa un culo che col mosin faccio le feed mi sta andando giù di fps e si anche a me che devi far caricare la città guardiamo ste casse e poi andiamo su però l'ho fatto per confondermi perchè io lo stavo inseguendo lui è andato su per la collina e poi tipo si si non l'ha visto a me però cioè tipo ho detto guarda questo mi stai inseguendo aspetta che vado su sentiva i colpi sentiva i colpi ma credeva che fossi te ma non mi ha visto io l'ho shottato perchè un mosin ha una bestia che non riesco a capire però shotta ok andiamo alla fire station madonna mi serve uno che aspetta ma c'è aspetta che luto queste due cose qua dietro di me ma non riesco a capire come farmi passare di sick tu conosci qualcuno che sa gli status di days mmm no c'è il sick bisogna avere gli antibiotici si mi sono preso tutto tetrachine c'è c'ho al uuu le pende perfetto tanto tra poco sarai morto c'è no vabbè da 30 minuti come io non è da 20 minuti che c'ero quello ancora non è in rosso ancora non è comparso niente quindi non mi è comparso lo status quello mi fa male la vita ho attuato a 1911 ma è inutile no madonna 10 fps ma io le faccio 60 59 vabbè anche perchè sto registrando quindi mi cano un po' quindi youtube merda vabbè oh mio dio oh santo cielo 9 fps e allora riusciamo a sto questo fottuto posto di merda c'è una borraccia piena a 70 e poi ce la dividiamo più che altro mi serve un disinfettante c'è un'altra borraccia c'è c'è uno shot che è mai inutile guarda che colpi prova a vedere se in questa casa c'è un antibiotico perciò puzzi o'enzo perchè fai pucio o'enzo non è una canzone ah si ha detto ma no escemo io già porca chi è? io no 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 hai sentito? sbaglio era uno sparo no non è uno sparo era la mia televisione la televisione è attaccata a 20 cm quindi ah e esplode per caso no no era una pubblicità come andiamo? io sono sull'incloscio ok io sto scendendo adesso andiamo a incollerni e ci vediamo chi è entrato? no no è crashato uno mi sa che ha crashato Michele e io dico Michele è stato vero Michele e qui stiamo andando alla power plant andiamo a vedere che c'è madonna sta tastiera che veramente mi fa andare lento il personaggio perchè ogni volta no ma è il tasto è il tasto shift ah ti sei comprato la tastiera dei cinesi anche no 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 io ho la ho quella della che mi stavo me la sono comprata al Games Week un... con 12 euro cazzo che paura mi sono comprato tastiera mouse ecco qua porca boia dimitri dove stai? dimitri stiamo registrando a balota dimitri indovina che stiamo facendo un video che bello voglio partecipare loro stanno facendo lui stanno facendo un video ci sono due persone col mosso mi sta andando a 13 fps sto robo chi è? perchè sto registrando ok non c'è un cazzo e sono sick però sono ancora vivo oh c'è uno c'è uno c'è uno dove? eh dietro dietro seguimi seguimi ok lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo la sua testa ma siete sul serverita? si si aspetta banner zitto 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 dato nelle flasche è sulla strada no ma i barmi mi sa lo prendiamo? no i barmi ma si aspetta spagli con la red 9 no 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 non prende li diciamo fermo fermo e poi lo 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 sdrumiamo no vabbè lo lascio stare ma dov'è stata ragazzi? magari ha cose interessanti dentro lo zaino beh io lo ammazzo perchè siamo ele aspetta aspetta no 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 parliamo 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 io lo ammazzo senza parlare adesso una pistola ci si fa dietrot' pueblo aspetta sanna d'azio quizak non c'ho stare è no dai andiamo lasciamo solare aspetta aspetta è entrato dentro non non nun spieghiamo muida andiamo in città non c'è un cazzo vieni 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 è il giorno ragazzo banner dove cazzo vai seguimi No, porca boia, dove sei andato? Da dietro, da dietro i tre. Ragazzi, io guarda, sono vestito tipo peggio dell'Isis. Ma dove, dove sei? Io sto a Balota. Ah. Mi rigiro all'aeroporto. Adesso andiamo, andiamo verso Balota. Mi rigiro all'aeroporto di nuovo e vi aspetto a voi voi. Guarda che non c'è munizione di niente. Io mi sa che slogo in mezzo perché vado a mangiare. Comunque sono sic, adesso buttiamo un vero. Anzi, Dimitri, tu che sei fermo, prendimi la mappa. Ok, dimmi tutto. Hai presente Electro? Ok. Dove c'è Electro per andare a Cerno? Ci sono paesi in collina? Sì, più in avanti. Di un totto chilometri, ma ti dico da Electro. Allora, prosegui la strada, no? A questo punto devi fare tipo una svolta AS, no? Uh-huh. E più in avanti vedrai una montagna a destra. Già quando fai la svolta a destra c'è una montagna enorme. Ok, 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 ok. Perché lì c'è la ferrovia. Vedo quel tipo, ok, bene. Vedo quel tipo, salutando Cerno. Andiamoci, perché non vorrei che prendi un'arma. Electro. Perché il nostro è comodissimo di Mosin per un Bambi. Per un Bambi. Non ci fa salutare. Magari lì dicevamo, fermo, fermo, io prendevo la Red. No, 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 ma ci aveva già visto, stava andando a Zico Zago. Non si è sempre mai fermato. E io non odio dei Zii perché ti devi fermare per sparare. E non ci fa Zico Zago. Io dico a Zico Zago. Madonna, quando mi serve l'alcol Tindu, non c'è. Io se perdo questo armamento tipo, tipo c'ho il plate, c'è il carrier, no? Hai munizioni per il Mosin? No, ho il plate carrier con le tre borsette davanti. Ah, buono. Quello ti fa... Madonna, setta FPS. Perché dite, merda. No, adesso bevo... Ah, sì. Merda, c'è un Bambi all'aeroporto, cazzo. Uccidere ad accettare, no? No, digli, ehi, ciao, ciao, appena si avvicina gli lo sdrumi. Allora, Dirsti e Heldri, devo andare a cercare cibo. Ci vediamo poi all'altra città, dopo Balota. Allora. A Comarrovo. Aspetta che prendo la mappa, Banner, coprimi. Io la mappa ce l'ho stampata. Eh, no, no, io no perché lo faccio... Azzurro. Electro, ok. Possiamo andare verso Prid de Gori. Eh, però dopo Electro, ragazzi, è venito a Balota. Almeno. Ok, siamo qui, ok. Banner, seguimi, seguimi, seguimi. Un attimo. Sto mangiando le vitamine. Hai altre... Hai cibo? Sì, ho del rio... Vediamo, vediamo, vediamo cos'ho. C'ho il bacon. Oppure altro tonno. Dammi del bacon, va. Tipo ieri, no? Hai una Makarov Banner? No. Ma la carabina e il caricatore? La carabina e il caricatore, però senza proiettili. Ah! Anzi, anzi, fai una cosa, esci il caricatore e svuota la carabina, fai empty sulla carabina. Che magari due colpi ci sono. Sì. Ok, idea. Quando ci vedo, fa il caraggio. Ieri avevo trovato un'accetta stupenda. No, mi fa fare solo inspect. Ok, quindi c'è il caricatore, perfetto. Il caricatore è per terra. Ah no, hai ricaricato. La cosa che è problematica, sa quella, è che si sentono quando cammini dentro la casa. Sembra che sta camminando dentro un... Non so cosa. Ok, caricatore è per terra, è preso, andiamoci. Andiamo a... Apri di Gori, che è sulla costa. Ok, sono... Energized, hydrated, stuffed. E tengo anche come vestito, tengo anche il coso, il TTS KO Jacket. Ok, bene, bene.